Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, diverse le novità. Parleremo a breve della scomparsa dell'ex sindaco di Argenta Andrea Ricci. In questa edizione parleremo anche di politica, di progetti per il futuro di Ferrara, ma anche di alcuni eventi che riguardano il prossimo fine settimana. E poi spazio anche allo sport. In questa edizione con la SPAD che torna in campo giovedì alle 18.30. Ma apriamo con la recente alluvione in Romagna, ancora al centro del dibattito, anche a livello di politica regionale. Mercoledì si è tenuta la relazione della Presidente Priolo in assemblea legislativa. Allora sentiamo che cosa è emerso. È stata una gestione in questo anno e mezzo molto complessa. Noi non ci possiamo permettere come istituzioni che neanche il Commissario Figliolo fallisca la sua missione. Abbiamo bisogno di accompagnare però i prossimi provvedimenti con due aspetti. Cambiamenti normativi rapidi. Ho citato il Ponte di Genova perché da questo punto di vista abbiamo bisogno di deroghe forti, importanti, che ci consentano di avere una macchina operativa più rapida. E dall'altra parte noi dobbiamo iniziare a focalizzare alcune opere strategiche per mettere in sicurezza il nostro territorio. I cittadini hanno bisogno di sapere che hanno una speranza e un futuro, non soltanto che stiamo ricostruendo gli argini, ma che stiamo facendo ciò che serve per evitare fenomeni come questo. Quindi sono queste le due cose su cui in questi due mesi noi ci dobbiamo impegnare al massimo insieme anche alla struttura del Commissario. Ed è necessario che il Governo, quando arrivano degli emendamenti o delle proposte da parte della Regione o da parte del Commissario, le legga dal punto di vista della proposta costruttiva. Abbiamo bisogno di costruire una nuova stagione. Cronaca adesso si è spento all'età di 69 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. Andrea Ricci, sindaco di Argenta per 17 anni dal 1987 al 2004, esponente del PCI e dei DS nel 2004, entrò come assessore nella giunta provinciale di Pier Giorgio dall'Acqua. Ricci era sposato dal 2015 con Marcella Zappaterra, attuale capogruppo PD in Regione. E ora cambiamo totalmente argomento per parlare dell'aeroporto San Luca al via le manifestazioni di interesse per l'affidamento del progetto esecutivo di riqualificazione e dell'esecuzione dei lavori. Come potrebbe diventare quindi in futuro l'aeroporto di Ferrara? Lo vediamo da questi rendering. Sono stati pubblicati in questi giorni gli avvisi esplorativi per la manifestazione di interesse per l'affidamento dei progetti esecutivi di riqualificazione dell'aeroporto San Luca, un maxiprogetto che cuba complessivamente 8 milioni e 200 mila euro tra fondi PNRR, fondi ENAC e fondi del Comune. Gli interventi intendono migliorare la rete dei collegamenti e della mobilità, riqualificando l'area aeroportuale e le strutture connesse. Le finalità sono quelle di potenziare le attività sportive e agonistiche dell'aeroporto con un'attenzione alla sostenibilità energetica e alla conformità normativa con nuove piste, nuovi angari e infrastrutture, accessi per disabili, impianti fotovoltaici e sistema di sicurezza rinnovati. Nel complesso il progetto mira a modernizzare l'aeroporto di Ferrara e si inserisce nel più ampio disegno volto a dare un nuovo impulso al settore, spiega l'assessore con delega al PNRR Francesca Savini. L'aeroporto esiste da oltre 100 anni e la sua storia prende avvio all'epoca dei dirigibili militari nei primi anni del Novecento. Il suo avvio come aeroporto, presumibilmente, è del 1911 con la realizzazione di due hangar per dirigibili che nel 1930 vengono demoliti. Nel 1944 l'aeroporto viene bombardato con immancabili conseguenze sulla tenuta della pista. Risalgono poi al 1985 gli ultimi interventi effettuati sull'area in occasione del Festival dell'Unità viene rifatta la pista. Ora, a 40 anni di distanza, l'aeroporto potrebbe cambiare ancora volto. Sanità adesso, la prevenzione nei primi mille giorni di vita. Questo è il titolo del filo d'Arianna. La sanità Ferrara si racconta ed è la nuova trasmissione che torna giovedì sera in onda su Tele Stense alle ore 20. Inizialmente, il focus sul Centro Salute Donna di Ferrara, definito punto riferimento per la maternità e la nascita. Quindi l'appuntamento giovedì su Tele Stense alle ore 20. E ora parliamo di scuola. A scuola, con l'influencer o in un osservatorio climatico tra le nuvole, così gli studenti imparano e contribuiscono a creare un futuro sostenibile. Tornano sui banchi. Infatti, i progetti didattici del gruppo ERA con oltre 70 proposte gratuite in presenza e a distanza per l'anno scolastico in corso che riguardano ogni ordine e grado nei territori coperti dalla multi-utility, tra cui anche il territorio ferrarese. Iscrizioni aperte fino al 4 di novembre. Ma sentiamo alcune testimonianze di questi progetti. Devo dire che è stata un'esperienza molto interessante perché ha visto come protagonisti gli alunni e quindi loro si sono divertiti e allo stesso tempo hanno imparato anche qualcosa di diverso. Quindi non solo la classica raccolta differenziata, ma anche magari che cos'è una stazione ecologica e l'esistenza di anche rifiuti magari diversi dal solito foglio di carta o bottiglietta di plastica o di vetro, rifiuti diversi come per esempio l'olio esausto che alcuni ragazzi non conoscevano oppure anche componenti, non so, di componenti elettroniche, quindi magari vecchi telefoni, vecchi cellulari, vecchi computer, quindi non il classico rifiuto, ma anche qualcosa di differente. Anche quest'anno il gruppo ERA torna con i progetti gratuiti della grande macchina del mondo e un pozzo di scienza. Contiamo di coinvolgere 100.000 studenti tra i 4 e i 19 anni sui temi dell'educazione ambientale e della divulgazione scientifica. Abbiamo oltre 70 laboratori gratuiti da scegliere in presenza o a distanza in un amplissimo catalogo. Con i più giovani parliamo di acqua, energia, ambiente e di scienza. Vogliamo coinvolgerli attivamente in laboratori pratici, eventi, sfide green divertenti per portarli a riflettere, adottare stili di vita sostenibili nel quotidiano. Un pozzo di scienza per gli istituti superiori è completamente inedito, con laboratori, conferenze scientifiche, interviste ed eventi su tantissimi nuovi temi, tra cui l'intelligenza artificiale, il cibo, l'agricoltura, il cambiamento climatico. Torna anche la GMM Challenge, la sfida che chiama all'azione scuole e famiglie, per sensibilizzare sull'impatto dei piccoli gesti green e piantare 300 alberi. Alla scuola il gruppo ERA ha dedicato un sito per facilitare i docenti nelle scelte delle attività e nelle iscrizioni che partono il 25 di settembre e si chiuderanno il 4 di novembre. Sul sito si potranno trovare tante risorse didattiche, oltre che i webinar formativi dedicati ai docenti. Ancora eventi, festa dell'accoglienza alla scuola Villaggio Ina del quartiere Barco di Ferrara, un pomeriggio di intrattenimento, giovedì alle 17, alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 6 di Ferrara, che in apertura di anno scolastico vuole così dare un abbraccio di benvenuto ai bambini e alle famiglie originari di 30 differenti nazioni che frequentano la scuola. E c'è un'associazione femminile di livello nazionale, la 505 è nata a Ferrara sei anni fa, che domenica pomeriggio premierà la giornalista Tiziana Ferrario in Sala Estense. Allora, in merito a questa iniziativa e altre che fanno in questa associazione, ci raccontano tutto le organizzatrici. Sentiamo. Domenica è importante per noi di Ferrara, perché siamo Ferrara ormai, io personalmente da 50 anni, e Ferrara ospiterà il premio 505. È un premio che l'associazione 505 ha pensato ogni anno per premiare una donna, una donna che si è distinta nel lavoro, che si è distinta nello studio, e la cultura, e anche che ha tenuto un po', come posso dire, un occhio di riguardo al mondo femminile. Questa domenica, in Sala Estense, alle 15.30, premeremo Tiziana Ferrario. Negli ultimi suoi libri ha toccato l'universo femminile con una delicatezza, è l'ultimo cenere veramente da leggere, ma non solo, inviata speciale a New York, in Afghanistan, è una donna veramente eccezionale. Come è nata l'associazione 505? È nata da un'idea della nostra attuale presidente, che era a teatro vedere Pupiavati, con un'altra collega. E Pupiavati, generosamente, ha detto che quando si è anziani, si ha un bagaglio culturale, e valigie piene di cose fatte, e lì dice, ma a chi lascio io queste valigie piene? E lì è nata l'idea che anche noi siamo tutte parrucchiere, che ci conosciamo da tanti anni, non solo di Ferrara, ma di tutto il nord, e è nata questa idea, ma noi, che abbiamo tanti anni di esperienza, e abbiamo valigie piene di passato, degli anni precedenti, di moda, e non solo, abbiamo pensato bene di creare questa associazione 505, parrucchiere donna, per mettere a disposizione di chi vuole tutto ciò che noi abbiamo fatto in questi anni. Perché 505? Perché quando abbiamo fatto la somma degli anni, quando ci siamo incontrate sei anni fa, sono usciti 505 anni di lavoro, e continuiamo a fare, diciamo che siamo ancora delle ragazzine mentalmente, e questo ci dà una gran forza. Ogni anno, noi siamo libere di scegliere, perciò siamo un'associazione libera, perciò ogni anno studiamo quale donna, premiare, perché premiare? Premiare anche per il tema che stiamo vivendo, come momento, sempre nell'universo femminile. Il primo premio è stato dato alla signora Carla Maducci, che è parrucchiera di Cesenatico, lavora con 10 collaboratori, e ha più di 80 anni. Un'icona veramente, ha lavorato in tutta Europa, ed è vero una donna eccezionale. Il secondo premio è stato da Abson Neghini, manager del settore beauty, è una donna iraniana, laureata in Italia, una donna che, nel nostro settore, si è fatta riconoscere per la sua sensibilità e la sua capacità. Il terzo premio, la signora Sautini, è il presidente delle Mille Miglia, Brescia. Poi c'eravamo a Brescia, nel museo delle Mille Miglia, e è una donna veramente incredibile. E quest'anno, a Ferrara, siamo veramente lieti di premiare Tiziana Ferrario. E giovedì, alle 17, al Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà un evento per celebrare i 50 anni di attività della Scuola in Lingua di Ferrara e lo si farà anche con una masterclass tenuta dal professor Patrizio Bianchi, ex ministro dell'istruzione, evento questo, all'interno della nona edizione del Ferrara Film Festival, ci ha dato qualche anticipazione l'amministratore della Scuola ospite nella puntata di mercoledì di musica maestro in onda su Telestense e Telesanterno, ne vediamo, ne è strato insieme. Un momento anche per poter condividere con tutti questo traguardo, un traguardo che si festeggerà domani, giovedì 26 settembre, alle ore 17, presso il Teatro Nuovo. di Ferrara. È un evento che vuole celebrare 50 anni, ma celebrare anche quello che è il ruolo di questa scuola nel favorire lo sviluppo economico-sociale del territorio attraverso le lingue, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e tanto altro. Purtroppo sono online perché effettivamente eravamo questa mattina a un evento in una scuola per celebrare anche i certificati di inglese di Cambridge che hanno traguardato questa estate. L'evento sarà una masterclass una masterclass tenuta da professor Patrizio Bianchi persona certamente nota e conosciuta quale ex rettore della Stata di Ferrara nonché anche ex ministro dell'istruzione nel precedente governo Draghi una masterclass che vuole trattare proprio del tema del ruolo delle lingue nel favorire quello che è lo sviluppo economico-sociale nel territorio. La partecipazione chiaramente a questo evento è gratuita un momento anche per poter condividere con tutti E adesso passiamo allo sport con la Ferrara Basket 2018 recentemente sono state presentate le nuove divise nella sede del consorzio Bonifica Pianura di Ferrara qui è stato intervistato anche il vice presidente del Ferrara Basket Paolo Piazzi con cui è stato tratteggiato anche il presente ma anche il futuro della palla spicchi estense Paolo Piazzi presentate le nuove divise di Ferrara Basket 2018 Adamant i presupposti visto l'andamento di questa pre-season sono tutti tali da far indurre a pensare a una stagione con grandi soddisfazioni ma diciamo che abbiamo fatto un precampionato secondo me di livello molto buono dove ho visto sicuramente un approccio che secondo me è fondamentale per fare una stagione in testa alla classifica come vogliamo fare che è comunque la difesa perché comunque è un elemento dalla quale non si può prescindere perché puoi avere giornate dove non fai canestro ma se comunque hai una mentalità consolidata tutte le partite e quindi parte della difesa secondo me diciamo acquisissi quella consapevolezza e quel è quel modo di fare che poi ti porterei sempre dietro e che alla fine dei conti come poi nella partita con la BMR alla fine dei conti quando poi è l'ultimo quarto dove conta mettere i canestri importanti e fare le giocate giuste ci arrivi perché comunque la nostra squadra ha un po' più di talento rispetto agli altri questo per quanto riguarda gli aspetti tecnici poi c'è la risposta positiva del pubblico c'è la risposta positiva da parte delle aziende che hanno voluto legare il loro naming a Ferrara Basket 2010 assolutamente sì diciamo che i 556 abbonati dimostrano che comunque Ferrara e la provincia di Ferrara stanno rispondendo adeguatamente alla nostra campagna abbonamenti ripeto secondo me hanno colto quello che è il buon senso di quello che abbiamo fatto da un anno e mezzo a questa parte e rispetto alle aziende che ci stanno sostenendo sono molto contento perché anche rispetto al nucleo di sponsor che abbiamo confermato dall'anno passato se ne sono aggiunti altri e quindi anche lì è un segnale che si sta lavorando bene che il termometro è giusto e quindi direi che siamo molto soddisfatti su quello che stiamo facendo e come stanno rispondendo tifosi e anche aziende del territorio calcio adesso serie C parliamo di Spal che si sta preparando ad affrontare il Milan futuro giovedì in trasferta alle 18.30 e lo fa dopo la vittoria sul Carpi di lunedì ricordo che sarà in onda match su Telestense in contemporanea con la partita della Spal per aggiornamenti e commenti ma sentiamo come i biancozzurri si stanno avvicinando a questa sfida attraverso le parole dell'allenatore Dossena Quali insegnamenti sono emersi dalla gara con il Carpi e cosa in merito cercherete di mettere in pratica domani a Solbiate? Tra le cose positive sicuramente c'è uno sviluppo fatto per bene entrambi le catene hanno lavorato molto bene davanti siamo stati incisivi nella prima parte nei primi 60 minuti il possesso palla è stato fatto in modo veramente importante a livello difensivo si è lavorato bene di reparto quello che non dobbiamo concedere dopo il 2-1 con l'abbassamento del baricentro della squadra di un 25 metri e il rifiuto non è il rifiuto comunque ok adesso non giochiamo più e cerchiamo di portare a casa il risultato ma penso che il modo migliore per stare lontano dalla nostra porta sia fare possesso palla sia andare a fare un gol in più rispetto agli altri nel momento in cui gli altri sono bravi che ci mettono nella nostra metà campo allora lavorare bene di reparto che tra le altre cose l'abbiamo fatto anche potevamo essere magari un po' più un po' più cattivi nelle aggressioni in avanti quando eravamo al limite dell'area tipo su quello del tiro comunque di una squadra che quando è bassa però viene fuori e cerca di recuperare il pallone di sradicare il pallone ma tutto sommato il blocco basso ha lavorato abbastanza bene quanto può aver influito il timore di non riuscire a conquistare il primo successo interno stagionale il primo successo interno i gol che abbiamo subiti che comunque perché ognuno di noi lo sa all'esame di coscienza che ogni giorno andiamo a casa e ci facciamo sappiamo che il nostro punto nero è quello dei gol presi delle occasioni concesse troppo tante quindi inconsciamente dentro la partita anch'io in panchina ancora un'altra volta ti condizionano quindi penso che anche i ragazzi siano un po' stati condizionati però è passato i numeri tra virgolette iniziano ad essere anche un po' un po' migliori è vero che il gol subito l'abbiamo avuto anche domenica però non è stata la partita quella lucchese quindi dei miglioramenti anche con la fase lì li abbiamo avuti e dobbiamo continuare a lavorare basta possiamo definire il Milan Futuro una sorta di mina vagante è una mina vagante pericolosissima anche perché la sua classifica anche se dopo solo dopo quattro partite non rispecchia minimamente la qualità tecnica che hanno i ragazzi abbiamo visto la partita con Rimini con la Torres hanno creato tantissimo non sono riusciti a concretizzare ma 4-5 occasioni bellissime tu per tu col portiere le hanno avute quindi non aspettiamoci un Milan con quattro partite e due punti ma una signora squadra tre partite in sette giorni turn over in vista con le partite con tre partite in sette giorni sicuramente devi centelinare le forze e quindi sicuramente sia sia questa partita che con l'entella ci sarà del turn over ha recuperato Melgrati Melgrati ha pienamente recuperato stamattina si è allenato quindi a parte Calapai tutti sono disponibili e davanti hai disposizione il capitano Antenucci qualche oretti e il leader di questa squadra così com'era e poi ha recuperato pure Carson abbiamo recuperato Carson fortunatamente quindi avrò anche una decisione di far giocare uno o l'altro in base alla partita in base alle sensazioni in base anche alla partita futura cercherò di mettere in campo la squadra migliore mi ricordo allora match in diretta su Telestense giovedì dalle 18 e 15 per questa edizione del telegiornale è tutto grazie e arrivederci grazie Grazie a tutti.